buongiorno sono la dottoressa mazzini dello studio mazzini caro practice center oggi parliamo del nervo vago e di come stimolarlo come aiutarlo ad essere più sano più forte e soprattutto come aiutarci a rispondere meglio agli stress acuti e cronici il nervo vago si dice in inglese the master nerve perché perché è un grandissimo nervo è un nervo importantissimo è un grandissimo regolatore di salute ed è un grande responsabile per la nostra salute tant'è che si dice che per essere in un buon stato di salute noi dobbiamo avere un tono vagale molto molto buono lui tra l'altro nasce nel cervello e è legato a tutti i nostri organi vitali quindi è legato al battito del cuore alla pressione arteriosa alla respirazione perciò vi rendete conto quanto è importante questo nervo del sistema nervoso autonomo veniamo allo specifico il nostro sistema nervoso è diviso in due parti principali noi abbiamo il sistema nervoso somatico il sistema nervoso autonomo il sistema nervoso somatico è quello che noi possiamo controllare i movimenti che facciamo con i nostri muscoli i nostri arti e lo teniamo per un attimo da parte anche se anche lui poi dopo ci servirà veniamo al sistema nervoso autonomo il sistema nervoso autonomo a sua volta è diviso in altre due parti il sistema nervoso simpatico e sistema nervoso parasimpatico il sistema nervoso autonomo intanto come dice la parola stessa lavora da solo è un lavoro inconscio noi non sappiamo che lui sta lavorando e non possiamo stimolarlo direttamente ma vedremo che cos'altro possiamo fare dunque abbiamo detto che questo sistema ha due subsistemi il simpatico parasimpatico e tu questi due sistemi sono fondamentali e devono lavorare in perfetto concerto tra loro il sistema simpatico è detto il sistema del combattimento e fuga ed è strettamente legato allo stress cronico e acuto il sistema nervoso simpatico in inglese si dice the flight fight mechanism combattimento e fuga lui è quello che ci faceva scappare dal leone tanti tanti anni fa ed è quello che ci fa rispondere agli stress quindi è molto importante poi abbiamo un sistema parasimpatico che è il sistema legato al rinnovo cellulare al riposo e alla digestione the rest and digest system si dice lui è estremamente importante perché questi due sistemi devono come dicevo prima lavorare in perfetto concerto ma chiaramente noi dovremmo vivere con un tono vagale molto buono quindi nella maggior parte stragrande maggioranza del tempo noi dovremmo vivere avendo un sistema parasimpatico stimolato e occasionalmente avere una reazione di stress col sistema simpatico ma che cosa succede quando noi siamo sottoposti a stress cronico quindi di lunga data o anche traumi recenti o passati ma che il nostro sistema non è riuscito a liberare e ha memorizzato che cosa succede avviene questo enorme disequilibrio tra un sistema e l'altro inizia a caricarsi il sistema simpatico di conseguenza che cosa succede va giù completamente il nostro tono vasovagale ok quindi adesso andremo al lato pratico che cosa dobbiamo fare per rinforzare il nostro sistema parasimpatico quindi lui il nervo vago siamo pronti potete prendere appunti se non rivediamo questo video mille volte in due modi lo faremo il primo è ridurre lo stress fisiologico e l'altro invece è proprio dei piccoli consigli velocissimi che vi darò praticissimi da fare tutti i giorni allora per stimolare il nervo proprio in modo molto diretto primo come ridurre lo stress fisiologico sette sono i punti principali il primissimo trattamento chiropratico lo studio mazzini da sempre specializzato da 25 anni in trattamento di pazienti con stress cronico mediante delle tecniche create proprio anche sviluppate dallo studio mazzini come la tecnica katman poi usiamo tecniche importantissime cranio sacrale cranio occipitale e massaggi cranici sono tutti i lavori molto specifici tecniche molto molto dolci atte a stimolare questa parte di sistema estremamente fragile in certi momenti due abbiamo la respirazione respirare col diaframma quindi respirazioni lunghe profonde e regolari poi abbiamo l'esercizio fisico quindi ballare fare sport muoversi camminare va bene tutto scegliete voi quello che preferite lo yoga per esempio lo zumba ce n'è di di tutti i tipi poi abbiamo la meditazione la preghiera la mindfulness vanno bene tutte l'importante è fare quello che voi vi senti quello col quale voi vi sentite meglio ci sono youtube offre tantissimo in questo campo poi abbiamo fondamentale il mangiare bene sappiamo appunto rest and digest quindi digerire mangiare bene mangiare come solo gli italiani sanno fare se vogliono basta guardare i propri nonni quindi mi raccomando almeno diminuire tenere molto bassi gli zuccheri le schifezze anzi eliminarle del tutto e tenere su i grassi buoni i grassi che fanno bene al cervello il salmone l'avocado e assicurarvi anche di avere nella vostra dieta un apporto molto regolare di probiotici che siano sotto forma di fermenti lattici con o senza lattosio ma anche probiotici naturali se non il vostro stomaco ve lo permette un probiotico naturale molto sano è la giardiniera poi abbiamo la musica ascoltare musica e in ultimo il settimo è cantare perciò voi immaginatevi se voi state ascoltando della musica cantate e ballate insieme siete già a metà dell'opera ok adesso andiamo invece ai ai piccoli consigli a proprio a quelle alle chicche quelle che i nostri pazienti amano chiamare i trucchetti che trucchetti non sono perché è tutto scientificamente spiegato veniamo i trucchetti pratici da fare subitissimo allora il primo i gargarismi quelli che ci conoscevano fare da bambini questi qui gargarismo assolutamente primo tra tutti da fare tra l'altro di questi tempi molto importante disinfettare bene la gola perciò con acqua e aceto gargarismi con acqua e argento colloidale va benissimo poi recitare il mantra o molto lentamente questo fa benissimo poi abbiamo il soffiare gonfiare un palloncino se si è capace di suonare uno strumento affiato va benissimo e inoltre il fischiettare questo fa benissimo nervo vago 4 ci siamo quasi immergersi in acqua fredda per quanto possa sembrare assurdo fa benissimo ma se pensiamo che non sia ancora il nostro momento sciacchiamoci con l'acqua fredda per qualche minuto va bene e l'ultimo è masticare masticare per lungo tempo lentamente prima di ingerire masticare ingerire nervo vago però mi raccomando vi prego fatelo molto molto lentamente grazie a tutti grazie a tutti